La primavera ormai è alle porte e con essa, per molti di noi, anche la cosiddetta sindrome del letargo. Infatti è ben noto che con la primavera la natura si risveglia, ma non è detto che ciò si verifichi anche per noi. Infatti sono in tanti che al cambio stagione avvertono una maggiore irritabilità, una stanchezza cronica e una riduzione del livello di concentrazione. È importante non sottovalutare i segnali che il nostro corpo ci manda e per superare al meglio questo periodo può essere sufficiente dedicarsi un po' più di attenzioni. Prima di tutto è importante ricordare che il nostro corpo ha bisogno del giusto riposo, di un'alimentazione sana, senza eccessi e senza saltare i pasti, perché queste condizioni vanno ad aumentare ancora di più il senso di spossatezza. Se abbiamo una dieta povera di sostanze nutritive, possiamo integrare con vitamine e minerali che rappresentano dei preziosi alleati per il benessere. Tra i minerali ricordiamo il magnesio, il quale tra i tanti benefici va anche a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. E se abbiamo bisogno di tono, di energia, ci possono venire in aiuto ginseng e pappa reale. Mentre se il problema è un po' più sulla concentrazione, abbiamo il ginkgo biloba.